Un grandissimo progetto nella città di Pesaro. Noi invitiamo le famiglie a portarci le cose che non sono più in buono stato. Fra un po' avremo il cambio di stagione, quindi gli abiti, anche qualsiasi oggetto che a casa avete, non utilizzate più, ma è in buono stato, a portarlo nelle sedi della Gulliver. Noi questi oggetti, questi abiti, li doniamo in continuazione alle famiglie bisognose, quindi a chi ha bisogno nella città di Pesaro. Il surplus lo mettiamo nelle nostre tre botteghe, ricordo, via Toscana, via Rossi e piazzarelli, e tra poche settimane un nuovo punto in via Rossi, dove le persone possono venire, prendere un oggetto e lasciare l'offerta. Con queste offerte cosa facciamo noi? Continuamente facciamo un lavoro in città, pittura nelle scuole, sistemazione di parchi e acquistiamo oggetti per le scuole. Il nuovo progetto, poi davanti al comune di Pesaro, grazie a Mila della Dora e all'assessore Belloni, è quello di Altrogiro. Quindi l'invito è portiamo più oggetti alla Gulliver, venite a trovarci nelle nostre botteghe, perché il ricavato del vostro scambio, con la vostra piccola offerta, fa sì che riusciamo a acquistare dei giochi nei parchi. Il nostro impegno è quello di ogni due mesi fare una donazione in un parco. Nel mese di maggio faremo le prime due opere, grazie a questo progetto. Parco Scarpellini, torno a Muraglia, abbiamo già messo un'altalena a cesto, una free library. Entro maggio faremo un nuovo scivolo in legno, molto carino. Fine maggio in un altro parco metteremo un'altra altalena a cesto per gli disabili. In città ci sono 65 parchi giochi, le richieste per riqualificare i giochi, per mettere giochi nuovi sono tantissime e abbiamo un confronto costante con la comunità. Abbiamo subito proposto alla Gulliver il primo intervento. Ci sembrava giusto partire dalle origini. La Gulliver parte con il mercatino di riuso al parco Scarpellini. Nel parco Scarpellini c'era una richiesta che arrivava ai nostri assessorati già da tempo rispetto all'acquisto di uno scivolo. Hanno provveduto già a formalizzare l'acquisto e contiamo nel giro di due o tre settimane di metterlo e di rendere ufficiale questa bella azione. In questi mesi dettati ovviamente dalla grave crisi a causa del Covid sono aumentate anche le richieste di chi si reca alla Gulliver anche per beni di prima necessità. Sì, attualmente abbiamo 140 famiglie, parliamo di 400 persone che vengono a prendere il pacco alimentare settimanale. In più abbiamo una platea di 600 persone che possono venire a prendere gratuitamente gli oggetti, il mobilio o gli abiti. Quindi riusciamo a fornire a città di Pesaro e nei comuni limitrofi questi beni gratuitamente. Le persone sono tante e sempre in continuo aumento. Dallo scorso marzo abbiamo avuto un incremento del 50%. In questi mesi l'incremento è del 30%. Stimiamo a fine anno, con il fatto della fine del blocco di licenziamento e altro, che la platea sarà in forte aumento. Quindi ripeto, l'invito ancora una volta, l'abito buono in casa, l'oggetto, il piatto, il bicchiere o acqua, qualsiasi cosa in casa che non usate e volete buttare via, invece che ancora è in buono stato, portatelo al centro di riuso intercomunale via Toscana 111, con i nostri volontari. Doniamo queste cose bisognosi e il surplus che può essere preso da chiunque dietro un'offerta lo rimettiamo in tanti progetti, compreso il nuovo progetto e l'altro giro.